Allora, Dragoni, forza che così mi aiuti a coinvolgere della banda. L'industriale dell'acciaio, Emilio Riva, è accusato di un'evasione fiscale. Perché noi parliamo di Fiorito, no? Dici tu. Però, insomma, forse ogni tanto ricordiamoci dei numeri differenti, no Marco? Fiorito un milione. Fiorito un milione. Accusato di avere rubato. Vediamo questi. Emilio Riva, il re dell'acciaio, è accusato di un'evasione fiscale e un re 52 milioni. Un'evasione da re. La procura di Milano, lo ha rivelato il Corriere della Sera, poi lo ha scritto anche il fatto, ha contestato a Riva di aver fatto una frode fiscale attraverso l'ILVA, montando operazioni fittizie all'estero, nel 2007 insieme a una banca da Londra, la Deutsche Bank, quindi la finanza, soprattutto a Madeira nel Portogallo. Sarebbero state fatte figurare delle perdite inesistenti per 150 milioni di euro, e in questo modo l'ILVA avrebbe risparmiato appunto tasse per 52 milioni. Ma chi è Riva? È l'imprenditore milanese ultra riservato, partecipava spesso anche alle cene preelettorali di Berlusconi, che nel 1995 è entrato tra i grandi produttori mondiali di acciaio, comprando dallo Stato l'ILVA, il gruppo che ha la più grande fabbrica d'acciaio d'Europa a Taranto. Ma Riva non è solo Taranto, ha anche delle fabbriche siderurgiche all'estero e diverse società o scatole finanziarie in Lussemburgo. Infatti il 75% della sua società capogruppo, che si chiama Riva Fire S.p.a., appartiene a una finanziaria lussemburghese e a due società di diritto olandese. Parliamo di paradisi fiscali, anche se non siamo alle Caiman. A fine luglio la magistratura ha sequestrato gran parte dell'ILVA di Taranto per il problema dell'inquinamento e Riva, che ha 86 anni, è da allora agli arresti domiciliari, accusato di disastro colposo per l'inquinamento che avvelena da decenni i tarantini. Lo Stato, torniamo al momento della privatizzazione, l'ha ceduto al privato l'ILVA dopo 20 anni di disastri, costati ai contribuenti oltre 15 miliardi di euro di perdite. Ma gli impianti dell'ILVA erano nuovissimi quando sono stati privatizzati e il grosso dei debiti, erano 7 mila miliardi di lire, sono rimasti sul groppone dello Stato. Riva ha pagato per l'ILVA 850 milioni di euro. In quel momento il mercato dell'acciaio tirava alla grande e i siderurgici facevano guadagni favolosi. Infatti nel 1995, l'anno in cui ha comprato l'ILVA, gli utili netti del gruppo Riva si sono decuplicati. Da 50 sono balzati a 500 milioni, solo in un anno. L'età del ferro non è mai finita, ha esultato Riva in quel momento. Più che di età del ferro però si dovrebbe parlare di età dell'oro. Perché dai bilanci ufficiali del gruppo, con l'aiuto anche dell'autorevole Mediobanca, si nota che da quando è proprietario dell'ILVA, in 17 anni, il gruppo Riva ha totalizzato 4, miliardi circa di euro di utili netti, questo dopo le tasse e dopo aver spesato anche gli investimenti. Gran parte dei profitti li ha generati l'ILVA. È una paccata di miliardi, come direbbe forse il ministro Fornero. A Taranto ci si ammala di tumore più che nel resto d'Italia, mentre con l'ILVA Riva è in paradiso fiscale. Allora, della valle si avvicina, cioè io ho tenuto fuori, non vi ho fatto... Grazie. Grazie. Grazie.